Benvenuti al Teatro Goldoni. Nell'anno in cui Venezia celebra i 1600 anni dalla sua fondazione ed è impegnata Venezia a superare uno dei momenti più difficili della sua storia, sono lieto di dare il via a questa iniziativa. Un'iniziativa creata per mantenere vivo quel legame costruito nel tempo tra il Teatro Goldoni e il proprio pubblico. Grazie al Presidente Giampiero Beltotto, grazie di cuore, al Direttore Artistico Giorgio Ferrara e alle Maestranze e a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo Virtual Tour. Vogliamo farvi conoscere le meraviglie di questo luogo, le meraviglie del Teatro Goldoni. Siete un punto di riferimento per tanti appassionati ma anche per tanti che grazie alla tecnologia si stanno avvicinando all'arte teatrale. Il Goldoni è un luogo magico che il prossimo anno compirà 400 anni. Vogliamo portarvi nei luoghi più misteriosi e riservati. Con la sua storia rappresenta lo specchio di una città viva e resiliente che ha sempre fatto della cultura un punto di forza. Il teatro, il Goldoni, adesso apre le sue porte per rendere la sua bellezza ancora di più alla portata di tutti. Anche se virtualmente respirerete il fascino del più antico tra i teatri veneziani, ancora oggi in attività. Buona visita a tutti!